Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come potete essere sponsorizzati nel mio canale prima di tutto dovete essere iscritti al canale poi mettere like a questo video e commentare inserendo prima di tutto un obiettivo stagionale che si riferirà alla divisione successiva e consigliandomi che giocatore acquistare mi raccomando 10 like a questo episodio e caricherò il prossimo i passaggi li avete visti sono semplici da fare forza con le sponsorizzazioni bro bella a tutti bro io sono Abba e benvenuti in questo nuovo video questo è l'ottavo episodio del foot road di vision 1 che ovviamente è stato diciamo un successone questo road perché non me l'aspettavo quindi vi ringrazio tutti per i commenti e per i like ricevuti all'episodio set l'episodio precedente e spero che farete lo stesso con questo episodio vi ricordo 10 like a questo episodio e posterò l'episodio successivo siete pronti? siete carichi? si parte ed ecco la quarta partita stagionale l'avversario che è lì davanti mamma mia c'è la chieda il laziale poi gli agli c'è con difesa e beh questo già c'è qualche giocatore più sistemato ma va bene così forse ragazzi forse abbiamo parlato sul migliorinist anche però non deluderanno lo so già mei coglioni attenzione era solo mamma mia dovevo combinare qualcosa di più broncaglia il tiro fuori forza forza stiamo già mettendo il timbro mosso cazzi tui palacio si destreggia palacio cerca la fuga palacio il cosso quello però in teore dove deve essere fallo ma è fuga no non lo è brossio mecciorini non riesce a tirare meccolo bellissima rete questa I ragazzi Palazzo Ci destreggia Palazzo Palazzo ci destreggia Palazzo Potevo continuare L'arena avanti Amma che cazzo me ne frega a me Come la pari Palazzo Palazzo Me goglioni Meggiorini 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 Non fa il giro Traversa Il secondo tempo Keita Fermato Però fallosamente dice l'albico Attenzione a questo Si avvicina la barriera Curbato Oddio Oddio Che gol Ma no Subire un gol così Ragazzi Dai mi ruota un po' Mi ruota un po' il culo Subire un gol così Non dire una ruota Non chiamo la polizia Porca miseria Gattetto Forza che sono scoperti Meggio Vai Meggio Meggiorini Il palo Sto coglione Gattetto Oddio Passa questa palla Garneggi La scazzatura Divende Il vantaggio Meggio Non ti fermare Vai Tira Tira Oddio Mi state facendo soffrire stasera Capito Si stava dai Dovamo fermarlo Per forza Tanto non ci fa nulla Traversa ancora Questa volta però Non è fortunato Bravissimo Buon è Finisce qui la partita E lo butta anche per terra Solo meritava Partita sofferta ragazzi Però riusciamo a portare a casa Anche questa vittoria Forza ragazzi Abbiamo subito 4 reti E manca solo Una partita Spero Se riusciamo a vincerla E poi abbiamo raggiunto Anche questa volta L'obiettivo Sagionale Massimale di 10 reti Forza ragazzi E come sempre Vi ringrazio Se avete visto Il mio video Fino alla fine E state sentendo queste parole Lasciate un bel like E Avanti Al prossimo episodio Bro